Abbiamo attaccato per tutta la partita, il primo tiro in porta su azione, il Genova l'ha fatto all'ottantesimo con Rossi. Sapevamo che si sarebbero chiusi nella propria metà campo, avrebbero pressato e avrebbero giocato soltanto in contropiede e cercando di sfruttare l'altezza dei loro torri, dei loro giocatori difensivi, per cui avevo detto di stare attenti calci d'angolo, calci di punizione perché potevano crearci qualche problema. E poi c'è stato l'ultimo arrembaggio finale, ho lavato la spacca, è normale che una squadra in salute come il Genova tenta di fare. La squadra ha saputo attaccare perché se stavamo sempre nella metà campo avversaria era una cosa importante, però pure quando loro volevano ripartire in contropiede in pratica hanno concluso soltanto su calci d'angolo, calci di punizione. Stiamo salendo di condizione e di determinazione, ma tutto è strettamente correlato alle partite che tu vinci perché lì si crea un'autostima importante e ti fa giocare con più serenità. Milito lo vedo un giocatore molto in forma che gli manca il gol, perché ve lo dico da sempre, l'anno scorso da esterno non lo vedevo il Milito solito. Quest'anno ancora da esterno ho detto Milito è ritornato. Allenandolo tutti i giorni io vedo che fa un lavoro impressionante, lega la squadra, ci tiene sul pallone, attacca gli spazi, viene incontro, prende tante di quelle botte che forse Malesani le vedrà magari sempre rivedendo la partita. Per cui per me è un giocatore importante, Forlano è un altro giocatore importante, Snyder è un altro giocatore importante, tutti faranno la loro parte perché sono giocatori dell'Inter, poi starà a me fare le scelte giuste. Grazie.